Loki, quanto ne sai? Diciamo che ne so poco, ma imparo in fretta. E sono un dio. Partiamo dall'inizio, allora. Andiamo. L'intera esistenza è in grave pericolo. La TVA è sparita. Intende gli ATV? No. Ce ne sono arrivati due la settimana scorsa. Ho bisogno del vostro aiuto per riparare il telaio. Oh, è una festa. Loki, se lo farai troppo tardi, tu ti perderai nel tempo per sempre. E Mobius perderà tutta la sua pelle. Andiamo. Sì. Ascoltami bene. Schiaccia il pulsante verde. Forse è un po' duro. Non pensare troppo. quindi è ora o mai più. C'è una cosa che devi vedere. Loki, siete sempre più disperati. Sì! 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 Grazie.